Buongiorno a tutti. Signore e signori buongiorno. A nome del nostro presidente Cagnoni di Italian Exhibition Group vi do il benvenuto a Vicenzoro September 2019. È un piacere avervi qui. Solo due parole sul commitment che ha Vicenzoro nel supportare il suo settore, il settore dell'oreficeria lungo tutta la sua filiera, quindi dalle tecnologie al prodotto finito. È un supporto che va molto oltre la parte di business e commerciale ma ovviamente si deve focalizzare anche sulle cosiddette top priorities del settore perché questo evolva e una delle priorità in assoluto più urgenti e più importanti è il tema della sostenibilità. Abbiamo qui con noi un panel di tutto rispetto con prospettive diverse anche dal nostro stesso settore. Volevo solo introdurvi perché è un onore per Italian Exhibition Group e per me stesso il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini che ringraziamo per essere qua con noi che guiderà e moderà il talk. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, vi ringrazio per la partecipazione, vi ringrazio anche gli organizzatori per l'invito, ho accettato molto volentieri per almeno un paio di ragioni, sia perché per motivi familiari sono anche un po' legato al mondo di Vicenza e dintorni ma anche di Rimini perché diciamo che io sono milanese di nascita ma come capita a tutti i milanesi di nascita non milanese di origine ma sono di origini incrociate tra l'Emilia Romagna e quindi Rimini e Vicenza e quindi il Veneto. Quindi questa è una ragione per cui è una delle ragioni per cui ho accettato molto volentieri questo invito insieme al fatto che la sostenibilità è l'argomento chiave di quest'anno e mi fa piacere sottolineare il fatto che a settembre scorso, quindi giusto proprio un anno fa, come gruppo 24 Ore l'avevamo immaginato e quindi abbiamo messo in cantiere una serie di iniziative, cito soltanto il notiziario specializzato dell'agenzia di stampa Radio Corso le 24 Ore di cui io sono anche direttore, più una serie di altre attività a livello di Radio 24 che fa parte anch'essa del gruppo e del Suolo 24 Quotidiano dedicate proprio alla sostenibilità. Quindi l'argomento che qui affrontiamo oggi è proprio l'argomento del 2019, non che la sostenibilità sia stata scoperta adesso, come avrete modo di sentire anche dagli interventi che sono in programma. Tuttavia è fuori discussione che la sensibilità anche a livello di opinione pubblica nel 2019 e non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale è arrivata se vogliamo a un punto molto alto, per cui essendo che non è stata scoperta adesso ma è stata scoperta prima, chi l'ha scoperta tempestivamente poi quest'anno ne raccoglie i frutti come avrete modo poi di ascoltare dalle testimonianze che sono previste questa mattina in questo incontro e che sono state scelte in modo tale da darvi uno spaccato un po' a tutto tondo, per cui avrete un cito Will Kahn, Market Director per la gioielleria presso Moda Operandi che poi è impegnato come Town & Country Magazine, come giornalista in prima fila, cito Simonetta Di Tommaso del Ministero dello Sviluppo Economico e in quel ministero si occupa proprio di temi, un tema specifico di cui vi racconterà che è legata proprio all'acquisto dei metalli preziosi di livello internazionale, le nuove regole che ci sono e che occorre da parte del mondo delle imprenditorie e delle aziende aver ben presente perché sono una nuova normativa che adesso entra in vigore, poi Cristina Squarcialupi, imprenditrice, vicepresidente di 1AR, impresa leader nel settore di cui si occupa alla fila di oggi, è seduta alla, diciamo, in un... e infine un giovane, Matteo Ward, e qui c'è un problema di visticcio di parole perché lui ha creato con grande tempismo la RUD, ce l'ho fatta, sono riuscito perché c'è un'inversione di lettere che è un tranello micidiale per chi poi deve annunciarne il nome, è molto giovane, lo vedete, ma ha capito che sarebbe arrivato il momento della sostenibilità. A quel momento è arrivato preparato da un'iniziativa imprenditoriale che gli sta dando grande successo e quindi io partirei proprio da qui perché poi i giovani rappresentano il futuro e quindi bisogna andare a imparare, avere anche l'umiltà intellettuale di imparare dai giovani che hanno tante cose da insegnarci. Ecco, a lui chiederei come è nato un po' il suo interesse per la sostenibilità, come è nata la sua iniziativa editoriale e di farci anche un bilancio del lavoro che fin qui ha fatto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Navica. Ha detto bene direttore che è stata una scoperta non recente ed è stata un po' una doccia fredda anche per me perché lavoravo prima, ho lavorato per sette anni in un grosso gruppo della moda che lavora proprio nel corporate fashion e lavorando lì per sette anni ad un certo punto ci rendiamo conto che quello che stavamo mettendo sul mercato non era assolutamente allineato con i valori di una generazione più giovane che stava nascendo, che stava crescendo, si stava approcciando ai nostri punti vendita e immediatamente dice ma io non voglio vestirmi di indumenti che fanno del male all'ambiente, fanno del male alle persone. Io in primis fino ad allora non mi ero assolutamente reso conto che inconsapevolmente stavo facendo proprio questo. Da lì la scelta di licenziarsi e di avviare non tanto un nuovo brand di moda ma quanto un'impresa capace di mettere sul mercato dei prodotti che dessero proprio alle persone, ragazzi come me, la possibilità di investire in un progetto che guardava l'innovazione, guardava l'economia circolare come il futuro per rimettere il sistema moda e rilinearlo con l'esigenza del pianeta, l'esigenza della società. Viviamo in un momento storico 2019 particolare perché effettivamente la parola sostenibilità ormai qualsiasi settore, qualsiasi ambito, potete aprire il giornale tutti i giorni, c'è sempre un articolo, c'è una pubblicità che utilizza questa parola spesso anche un po' inflazionata oggi. Il percorso che stiamo facendo è cercare di capire effettivamente che cosa vuol dire sostenibilità nel settore moda ma non solo perché si parla comunque di valori quali la tracciabilità di filiera, la trasparenza, la provenienza dei materiali e l'utilizzo di materiali che non siano dannosi né per l'ambiente ma soprattutto anche per la nostra salute perché la nostra pelle assorbe fino al 65% di quella con cui la mettiamo a contatto ed è un dato delle Nazioni Unite che l'8% di tutte le malattie dermocutanei siano causate proprio dall'esposizione con i trattamenti finissaggi contenuti nelle nostre fibre tessili. Quando a queste cose si vengono spiegate in modo coinvolgente, ragazzi lavoriamo nelle scuole, lavoriamo nelle università, improvvisamente vedo gli occhi di tutti che si infiammano, dicono ma allora cosa possiamo fare, non vogliamo vestirci di questa roba, non vogliamo prodotti che causino tutto questo e iniziamo a lavorare con loro, è iniziato così il percorso per dare allora un prodotto che fosse effettivamente allineato con questi nuovi valori. E anche nei gioielli? E anche nei gioielli assolutamente perché si parla comunque di valori che trascendono il prodotto, quando si parla chiedo a tutti voi vogliamo indossare che se la borsa, che se l'orecchino, la scarpa, grazie. Grazie a tutti. 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 Già oggi stiamo esaurendo ormai sempre prima tutte le risorse naturali funzionali a garantire la vita sul pianeta. Cristina Squarcialupi, lo ricordavo prima, imprenditrice, vicepresidente di una AR. Ecco, intanto il suo gruppo si è certificato per tempo, no? Quindi è una medaglietta aziendale di cui possono andare fieri. Ecco, qual è stato il vostro percorso? Se, credo che sia, ormai è possibile un bilancio, no? Perché voi l'avete da diversi anni questa certificazione, ecco, le chiederei proprio di descriverci, di raccontarci questo bilancio. Che cosa ha significato? Allora, innanzitutto volevo dire che, dunque, io sono qui a rappresentare non soltanto la UNAR ma anche la Chimet, che è un'azienda che entra proprio a gamba tesa, mi viene da dire, nel tema dell'economia circolare. Chimet è un'azienda che nasce negli anni 70 e che si occupa di recuperare metalli preziosi da tutti gli scarti di lavorazione. Quindi proprio quello di cui parlava Matteo fino ad ora, cioè non andare più in miniera a scavare l'oro, a prendere l'oro, quindi meno impatto ambientale e addirittura recuperare da un rifiuto. Chiaramente quando, insomma, la mia famiglia ha acquisito anche il gruppo, anche la UNAR, già da sempre noi utilizzavamo questo tipo di oro, cioè un oro riciclato. Era già sostenibile, a dire, senza la medaglietta che mi diceva ora lei, senza la certificazione. È chiaro che poi la medaglietta serve e quindi UNAR si è certificata, ha iniziato il percorso della certificazione Argesi, che riguarda proprio l'oro responsabile, nel 2014. Abbiamo approcciato sicuramente questo tipo di certificazione per la richiesta di un unico importante cliente, che ci avrebbe accompagnato appunto lungo tutto il percorso e che però già riteneva, come vi ho detto ora, la nostra azienda già pronta a recepire le linee guida che richiedeva l'Argesi. Cos'è l'Argesi? L'Argesi in pratica è un'associazione che ha come obiettivo quello di creare una filiera responsabile per quanto riguarda il settore dell'alta gioielleria, che vada, una filiera responsabile che vada dalla miniera fino all'utilizzatore finale, passando attraverso tutte le fasi di lavorazione e anche di rete commerciale. Dunque noi diciamo che la nostra azienda, come ho detto ora, aveva già, diciamo, si è subito trovata in perfetta sintonia con i principi propugnati a Argesi, proprio perché un AR ha da sempre coltivato il rispetto della legalità e anche lo sviluppo proprio del territorio in cui risiede, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale, sociale, ambientale e di rispetto dei diritti umani. E proprio per questo non abbiamo trovato una grandissima difficoltà per quanto riguarda i principi di politica aziendale, mentre invece abbiamo trovato un pochino più di difficoltà per quanto riguarda poi l'organizzazione interna e il metter su un sistema di procedure e un sistema anche di controllo abbastanza capillare che poi ha coinvolto, diciamo, tutte le figure, tutte le funzioni aziendali, dalla produzione all'amministrazione, addirittura anche alla rete commerciale. Comunque nel 2014 noi siamo arrivati, abbiamo preso questa certificazione e posso dire ora a consuntivo che sicuramente i benefici derivanti da questa sono assolutamente superiori rispetto ai costi che abbiamo supportato. Sono superiori innanzitutto per quanto riguarda la reputazione nei confronti dei nostri clienti e tra l'altro abbiamo ampliato la nostra clientela per quanto riguarda soprattutto il prodotto ad alta manifattura. E poi abbiamo trovato i benefici anche perché l'azienda che si è sottoposta a questo esame volontario è comunque risultata più coesa e anche più cosciente dei propri punti di forza e anche dei propri punti di debolezza. E inoltre posso dire anche che il necessario controllo costante su tutta la nostra organizzazione ci ha reso anche più vigili e attenti anche su altri fronti, come ad esempio, tanto è vero che dopo la certificazione Argesi noi abbiamo ottenuto anche l'accreditamento nel nostro laboratorio chimico per quanto riguarda i saggi sull'oro e sull'argento e anche la certificazione sulla responsabilità sociale d'impresa secondo gli standard Smeta Pillar 4 e 2. Ultimo ma non meno importante, vi volevo anche dire, ritornando a Chimet, ritornando all'iniziale, che Chimet, che è già certificata, riconosciuta dal London Bullion Market come Good Delivery per quanto riguarda oro, argento, platinum e palladio, ha ottenuto a luglio di quest'anno anche la certificazione Argesi, chiaramente come refiner e come trader. Questo proprio nell'ottica che si diceva fino ad ora di sviluppare una filiera assolutamente responsabile e tracciabile, diciamo dalla materia prima fino al prodotto finale. Grazie. Il terzo intervento previsto è di Simonetta Di Tommaso. Simonetta Di Tommaso lavora al Ministero dello Sviluppo Economico, lo ricordavo prima, ed è interessante, abbiamo scelto di chiamarla qui per una testimonianza, in quanto lavora su un fronte specifico, quella dell'importazione di minerali a partire dall'oro. Ecco, qui c'è una nuova normativa, ci sono dei nuovi regolamenti, lei avrà un compito difficile adesso, quello di tradurre in parole chiare, che possa capire anche io, tanto per ritenerci, il lavoro che è stato fatto, che è in corso e che poi produrrà delle regole a cui tutti voi anche dovrete adeguarvi per evitare problemi e sorprese. Prego. Grazie. Siamo molto lieti di partecipare a questo importante evento come Ministero dello Sviluppo Economico, di fondere la sostenibilità al centro delle nostre attività e in particolare, come è stato giustamente richiamato nella presentazione, vorremmo presentare gli ultimi sviluppi sul regolamento che come noto è stato emanato ed è entrato in vigore nel 2017, un regolamento europeo sull'approvvigionamento di minerali e metalli da zone di conflitto o ad alto rischio. Questo regolamento prevede che a partire dal 1 gennaio 2021 le imprese importatrici di minerali e metalli, compreso l'oro, adeguino i propri sistemi di gestione, adottino delle politiche interne di valutazione dei rischi e introducono dei sistemi di gestione dei rischi, così come degli audit e degli obblighi di comunicazione. Richiamo brevemente questi temi del regolamento perché saranno proprio per le imprese degli obblighi che ricadranno sulla loro gestione aziendale. Il Ministero dello Sviluppo Economico è a fianco delle imprese italiane per accompagnarle in questo processo e per renderle partecipe di tutte quelle iniziative che sono state sviluppate a livello europeo, in quale l'Italia partecipa naturalmente, per consentire di diffondere le informazioni e di anche disporre di tutti quegli strumenti di assistenza che consentono alle imprese di adeguarsi al nuovo regolamento. Vorrei qui ringraziare pubblicamente Federorafi che ci ha sostenuto in questo percorso e ha anche partecipato a degli esercizi su piattaforme che vengono via via sviluppate per diffondere le buone pratiche tra le imprese. Recentemente abbiamo appunto portato avanti un progetto con Argor Italia proprio sulla piattaforma che è stata lanciata a livello europeo sul Responsible Mineral Information System che consentirà ad ogni azienda di poter pubblicare su base volontaria le proprie regime di dovere di diligenza nelle pratiche di approvvigionamento dell'estero. Noi sappiamo i grandi sforzi che le imprese italiane stanno adottando per rispondere ai requisiti del regolamento europeo che come vorrei richiamare ha una portata globale nel senso che a differenza della legge statunitense prevede che l'importatore deve adeguarsi a questi regimi di dovere di diligenza indipendentemente dal luogo in cui vengono importate i metalli e i minerali compreso l'oro, ripeto sappiamo anche delle difficoltà come giustamente è stato richiamato di adottare sistemi di gestione interna per la tracciabilità in tutta la catena di fornitura e quindi ripeto il nostro impegno è quello di avviare un dialogo costante e costruttivo con le imprese perché partecipino in questo processo che ripeto è in questa fase transitoria ma presto vedrà con l'ingresso dei nuovi obblighi diciamo degli obblighi per le imprese di adottare quindi un sistema di gestione di approvvigiamento responsabile proprio per rispondere ad una condotta responsabile dell'azienda e quindi rispondere agli obiettivi di sostenibilità ecco facciamo un paio di esempi concretamente cosa vorrà dire questo per un'impresa, per un imprenditore ecco concretamente richiamo brevemente il regolamento cioè gli articoli del regolamento prevedono innanzitutto un framework chiamiamolo di 5 passi che sono dettagliati poi nello stesso regolamento e sono un sistema di gestione efficace e solido all'interno che viene comunicato anche all'esterno ai propri fornitori ma anche ai consumatori quindi di gestione aziendale di gestione aziendale dove diciamo in questo sistema di gestione dovranno essere rese note dove vengono, qual è la catena di approvvigionamento sia a valle che a monte della fornitura quindi per esempio l'oro dove si compra esatto e dove si vende esattamente naturalmente e come lo si paga il fine del contante questo particolare che non è di poco perché parliamoci chiaro questo è il punto l'obiettivo bel problema questo qua è un regolamento ma quando entra in vigore dunque il regolamento è già applicabile ma no quando diventa obbligatorio gli obblighi per le imprese scattano a partire dal 1 gennaio 2021 ah non è che manca molto esatto ecco in questo in questo periodo avete fatto una stima di che cosa significa questo cioè come impatto rispetto al mondo produttivo beh ha un impatto notevole diciamo perché il regolamento riguarda l'oro ma anche altri minerali metalli quindi lo stagno, il tantalio, il tungsteno che hanno diciamo delle implicazioni in vari settori industriali dall'automotive all'elettronica e quindi lo spettro diciamo del regolamento è molto ampio quindi argento, anche l'argento, anche il rame o no, l'argento no l'oro l'oro e il rame sì e poi si parte da 100 kg esatto esatto quello che diceva lei che è forse del contante cioè in realtà sono la dottoressa la sa molto meglio di me però le aziende sono tenute a seguire questo regolamento solo se superano i 100 kg di lavorazione vabbè quindi un bel sospiro di sollievo quindi non tutti si sente in sala un momento di l'abbiamo scampata no scherzo naturalmente vorrei portare questo messaggio positivo e richiamandomi anche a quello che diceva Matteo poco fa cioè è una grande opportunità che crea anche molto valore la sostenibilità in questo senso va vista come un'opportunità per garantire margini di operatività dell'azienda e crescere sui mercati quindi diciamo capisco noi siamo molto consapevoli che diciamo lo sforzo è molto rilevante e investirà più settori dell'industria italiana vediamo però anche una grande opportunità e a livello europeo questa nuova dimensione di sostenibilità e di approvvigionamento responsabile sicuramente porterà le aziende ad incrementare il loro quote di mercato beh 100 kg è una bella quantità cioè è un'azienda deve essere un'azienda in una certa dimensione per arrivare a 100 kg d'oro da trattare ma guardi giustamente sono state richiamate alcuni aspetti del regolamento che sicuramente poi possiamo anche illustrare in dialoghi diciamo più tecnici e magari più concentrati su alcuni settori in questa fase l'Unione Europea sta definendo delle soglie diciamo delle soglie entro il quale diciamo scatteranno questi obblighi di uniformarsi al regolamento e diciamo la prospettiva è quella di includere il 95% delle importazioni globali dell'Unione Europea quindi queste soglie saranno abbastanza tali per cui diciamo rientreranno molte imprese quasi 95% di tutto l'import europeo quindi bene l'altra testimonianza prevista è quella di Will Khan ricordavo prima il suo doppio ruolo di giornalista ma anche di esperto del commercio c'è un problema di audio? forse è bene risolverlo perché se non sente la domanda è difficile che risponda adesso funziona? perfetto grazie no dicevo che abbiamo ricordato prima il suo dopo ruolo quindi sia giornalista sia diciamo in prima linea nel commercio online nel commercio elettronico che è la nuova frontiera esperto di sostenibilità ecco a lui chiederei di raccontarci come l'evoluzione che c'è stata nel racconto di queste esperienze nello storytelling ecco com'è cambiato il mondo del racconto di queste esperienze per arrivare a oggi dove questo racconto sta diventando decisivo anche per avere successo imprenditoriale sì so I'm definitely not an expert in the sustainability field in general I think I'm an expert in jewelry editorial and now in marketing I've been in the jewelry industry for quite a while and I've seen an increased interest consumer interest in sustainability it was something that we never talked about just 10 years ago and now it's hot on everyone's mind especially in the jewelry industry you're making a huge financial investment in what you're buying and you want to feel comfortable with that purchase you want to feel safe that you're making a good impact on the world and the environment and people so I've found that both our readers at Town and Country and my new consumers at Motor Operandi it's very important in terms of storytelling I think it can get a little dry as we talked about I think there's a way to make it the consumer that is interested is interested so if they're just interested in the style of it they're not going to be worried about this when they are interested in sustainability I think a good example of someone that has done great corporate storytelling both in editorial and in corporate communication is Tiffany and company they have been fully transparent about where they get all of their diamonds 100% traceability on all diamonds on all gold they actually took me to on the journey of a diamond and I wrote about it for town and country and I think that's what our readers are looking for is just full transparency they want to know everything about it 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 it's gone is the time they're just looking at the price saying okay great it's cheap I I'm not worried about it they are worried about it and they're willing to spend extra for it they just want to know every detail about where when and who it's impacting and I think it's a huge opportunity for a lot of companies to gain market share and to gain credibility in their business practices bene abbiamo ancora una decina di minuti che ci sono stati concessi dagli organizzatori perché alle 11.30 dobbiamo chiudere questo incontro ecco vorrei che guarda ci facesse qualche considerazione sul tema che poi è cruciale per il consumatore il prezzo ecco la variabile prezzo collegata evidentemente alla sostenibilità quanto incide e questo è importante soprattutto per le piccole aziende qual è l'incidenza per quanto riguarda i progetti di sostenibilità della variabile prezzo sulla base della tua esperienza sicuramente acquistare già una materia prima che sia certificata che abbia un ridotto impatto ambientale e che garantisca anche una filiera sociale pulita trasparente e quindi dare ai lavoratori il loro giusto salario non un salario che sia inferiore a quello che si chiama living wage si riflette poi sul non voglio dire il costo ma sul valore del prodotto cioè ritornando a quello che ha detto anche Will oggi la nuova generazione è disposta a pagare quasi un 40% in più di premium su un prodotto che sia realmente onesto trasparente e che sia in grado di instaurare un rapporto di fiducia col cliente finale perché in realtà di scarpe di pantaloni di orecchini siamo stracolmi nessuno si sta inventando più nulla chi più chi meno nel mercato è pieno ho solo chi l'imbarazzo della scelta la discriminante prezzo non è più neanche quello che fa la grossa differenza magari fino a 15 anni fa quando un fast fashion si avvicinava sul mercato avevi una variabilità enorme tra la maglietta 3 euro e improvvisamente tutte le altre oggi invece più o meno tutti si sono livellati la grossa differenza fa installare il rapporto di fiducia con il cliente finale quindi quello storytelling la narrativa la comunicazione un rapporto personale tra brand e cliente che si instaura investendo in queste dinamiche qui per cui sicuramente il prezzo è più alto ma non è il prezzo il valore in il quale tu stai investendo quindi il cliente è disposto a pagare di più assolutamente sì lo stiamo riscontrando lo stiamo riscontrando anche noi in primis la discriminante la fa lo storytelling la comunicazione e garantire al cliente quello che tu stai dicendo perché c'è molto scetticismo anche sul mercato però comunque forse dipende anche da che tipo di cliente si va a cercare perché nella tascia alta non ci sono dubbi però la società poi è articolata però noi vediamo anche ragazzi più più giovani proprio parlo dei ragazzi del licee di 16 anni che magari non possono non hanno uno stipendo non possono permettersi un capo fatto in un determinato modo ma sono disposto a disposti a pagarlo con altre forme di pagamento alternativa un pagamento rettizzato una forma quindi bisogna vedere cosa ne pensano i genitori perché poi alla fine sono loro che pagano i ragazzi sicuramente i genitori bisogna vedere sicuro ma anche nuove forme di pagamento cioè ad esempio il renting dei capi oggi è una formula per dare a una generazione più giovane un capo un abbigliamento un prodotto che non potrebbero altrimenti permettersi ma lo prendono in affitto e sta aumentando moltissimo tra l'11% dei millennial oggi prende i vestiti in affitto e poi li restituisce oppure questo è interessante perché poi in realtà è tutto un modello sociale non succede solo per i vestiti la macchina si va verso una società che userà sempre di più le macchine in compartecipazione vale per le motociclette vale per le moto vale è tutto un modello è un modello di nuova organizzazione di acquisto di acquisto che va a impattare è una rivoluzione io lo dico sempre non si parla solo di prodotto quando si parla di cambiamenti paradigmatici ma si parla di una rivoluzione totale dal filo alla modalità di produzione alla modalità di consumo ad acquisto e di poi rimesso nel mercato del prodotto finale e oggi tutte le aziende stanno siamo tutti in questa fase di bivio per cercare di reinventare dei sistemi sui quali ci siamo fondati e poggiati per gli ultimi 60 anni per cui da qua anche la situazione di crisi che inevitabilmente però diventa opportunità di progresso e qui ci sono delle opportunità per l'appunto straordinarie per le aziende e per le imprese perché chi capisce prima chi immagina prima i nuovi percorsi e la nuova tipologia di organizzazione dei consumi gli si aprono delle frontiere imprenditoriali mica da ridere perché effettivamente questo è un punto che vale la pena sottolineare i cambiamenti sono epocali chi avrebbe mai pensato dieci anni fa che la propria auto cioè il modello del rapporto il rapporto tra il consumatore e l'automobile era un rapporto esclusivo la propria macchina che uno vedete i film degli anni 60 che uno se la puliva se la lavava c'è tutta una tipologia di racconti per l'appunto su questo rapporto tra gli individui e la macchina e oggi si va verso un modello in cui si perde questa connessione la macchina è in compartecipazione è veramente se ci pensate una rivoluzione vera dei consumi delle abitudini e quindi da un punto di vista delle imprese delle aziende si aprono delle nuove frontiere assolutamente è molto interessante io penso Cristina Squaccialupi i programmi che cosa avete in mente per proseguire in questo filone certificazione sostenibilità noi quello che parlava ora Matteo a questo punto la comunicazione ci manca è vero mi riallaccia quello che ha detto ora Matteo che purtroppo il mondo attenzione interrompo un attimo o per un settore come quello dell'editoria che affanna e aggrappiato con le unghie sulla linea di galleggiamento questa è una bella notizia è una bella notizia in sala interesserà poco però bisogna diffondere questa riflessione bisogna fare un passo indietro perché il mondo dell'oro forse riusciamo a sopravvivere è un mondo antico il mondo dell'oro è un mondo antico ha le sue radici negli etruschi e addirittura prima degli etruschi e quello che dice Matteo non si può noleggiare un un gioiello perché è veramente difficile non a caso quelli che hanno che sono stati i primi a muovere questi passi sono stati i grandi brand della moda e quando parlo di grandi brand parlo di Cartier parlo di Bulgari parlo veramente di di aziende ad altissimo livello e quello che ripeto è molto più difficile per le aziende più piccole è poter contenere costi che invece utilizzando un prodotto cioè tutta questa tracciabilità di filiera per forza economicamente l'impatto è più alto è più alto e spesso e volentieri il consumatore finale non è disposto nel nostro campo a meno che non sia appunto firmato Cartier di spendere di più su un gioiello unbranded mi viene da dire no? Io spero che il mondo cambi anzi io non posso altro che dire che mio padre questo mondo se l'ha immaginato più di 50 anni fa dal momento che ha iniziato a recuperare del metallo da scarti di lavorazione e quindi ha visto questa visione ce l'ha avuta ormai da tanti anni e sono assolutamente d'accordo che il mondo per forza deve cambiare il nostro certo è un settore in cui il cambiamento sarà un pochino più lento io credo e comunque la comunicazione per quanto riguarda i nostri progetti assolutamente la comunicazione di questa responsabilità di filiera che veramente a questo punto abbiamo in ogni passaggio all'interno della nostra azienda non saprei grazie a proposito di storytelling e di comunicazione ho alzato la palla a un nuovo intervento di Will Canna a cui chiederei che cosa immagina come evoluzione ulteriore dello storytelling e però ci aggiungerei un'altra domanda diversa e cioè per quanto riguarda il mondo dell'online del commercio elettronico si conferma la disponibilità di cui parlava Ward prima e cioè di essere di un consumatore pronto a pagare di più di un consumatore che riconosce il valore della sostenibilità io per la verità ho qualche dubbio in proposito che mi viene poi confermato dall'intervento di Squarcialupi di poco fa e cioè io credo che poi bisogna distinguere ci sono delle facche di popolazione per cui questo discorso va bene però poi c'è il resto del mondo che numericamente però è molto più importante è che lì invece la variabile prezzo continua a incidere significativamente ecco secondo me e anzi il modello di evoluzione della società occidentale negli ultimi 10-15 anni ha aumentato la ricchezza di pochi ma ha aumentato la povertà di molti e quindi la variabile prezzo non è irrilevante non è indifferente ecco su questi due aspetti queste due domande chiederei a Wilkan di darci il suo contributo sì I think obviously price is very important but I think it's important to note that when we're talking about any jewelry spending it's already a certain level of consumer that is well above the line that would be concerned with a certain percentage of you know spending extra or little I think we're already reached a threshold of this is an extra cost that's outside of their normal expenditures if you're a jewelry shopper you have extra money or it's a landmark purchase like an engagement ring which is you know a special like saving up for a moment and when they are saving up especially in the millennial generation they want to be sure that they're spending well and they're spending without hurting anyone or the environment it's kind of I think that our generation is participating in something called consumer activism which they're voting with their dollars both in in political ways of boycotting companies and in more activism ways of supporting companies that are doing well I think in the whole car sharing idea you see that the millennial has very little kind of relationship to things a very different relationship to things that has been in the past so their relationship to an engagement ring would be if it's going to hurt someone I don't even want it so they're only going to spend when they feel that it's environmentally friendly and and you know sustainable bene siamo arrivati alla conclusione di questo incontro Simonetta di Tommaso le vorrei chiedere voi state mettendo a punto un sistema di regole che è certamente più complesso gli obiettivi da raggiungere sono importanti ma c'è per l'appunto una complessità ecco avete in programma qualche iniziativa come vi state orientando per avere delle iniziativa per mettere in atto dei meccanismi con cui riuscite a spezzare il pane della conoscenza per il mondo delle imprese che in un paese come l'Italia è fatto soprattutto di piccole e medie imprese più piccole che medie spesso ecco avete immaginato uno storytelling di quello che state facendo o dovete ancora a che punto siete ecco siamo molto lieti di poter essere qui proprio per condividere queste informazioni e invitare ad una partecipazione delle imprese a quello che è un esercizio che appunto vede la creazione di una piattaforma di cosiddetta di due diligence dove le imprese potranno trovare tutti gli strumenti e le informazioni utili per poter trasferire questa esperienza all'interno della propria realtà imprenditoriale e quindi l'invito è quello di prendere parte a questo esercizio di test che inizierà a metà settembre è un test che si svolge ripeto su questa piattaforma che noi condividiamo con tutti gli stati membri dell'Unione Europea e veramente vi invito a partecipare perché è l'occasione per poter disporre di tutte le informazioni utili quelle più operative e anche quelle di poter in qualche modo portare la vostra esperienza all'interno di questo esercizio e adeguarlo alle esigenze delle piccole e medie imprese lungo tutta la catena di fornitura di minerali appunto che rientrano nell'ambito di applicazione di questo regolamento sulle zone di conflitto e ad alto rischio il ministero dello sviluppo economico accompagnerà le imprese con tutte le attività informative e anche mettendo a disposizione questo set di strumenti formativi e di assistenza quindi ripeto a metà settembre questa piattaforma verrà testata a livello sperimentale e verrà lanciata la piattaforma ufficialmente in occasione della Raw Materials Week che si svolge a come sapete a Bruxelles il 18 novembre di quest'anno bene vi ringrazio per la partecipazione credo di poter chiudere con una riflessione complessiva oggi certamente la sostenibilità è un po' di moda e spero che questa moda però non passi perché alla fine non si può pensare e sarebbe un errore pensarlo di vivere bene e di vivere meglio scaricando o sugli altri a livello internazionale o sull'ambiente i costi di questo di vivere bene e di vivere meglio perché alla fine è come un boomerang il conto prima o poi viene presentato e di conseguenza è bene che la sostenibilità non diventi non sia una moda ma sia realmente un modo diverso di vivere e di produrre grazie per la partecipazione e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti